Facebook Campagna vaccinale rallentata dai dubbi sugli effetti collaterali di AstraZeneca ma anche dal periodo fra le due inoculazioni che limita i viaggi estivi È tornata in libertà la 38enne triestina compagna del DJ modenese morto per una coltellata in Francia proseguono le indagini degli inquirenti Attenzione ad un sms che invita a rintracciare pacchi in giacenza è l'ultima trovata criminale per impossessarsi dei dati sensibili Proseguono i lavori sulla linea del tram in via commerciale prossimo passo all'installazione dei nuovi binari poi toccherà il cantiere di Opicino Una tartaruga caretta caretta è affiorata stamattina a Barcola aveva la testa mozzata la capitaneria di Porto ha recuperato la carcassa Siamo ancora in tempo per porre rimedio alla moria delle api e ai problemi conseguenti ma dice l'esperto serve un rapporto migliore fra uomo e natura La nave di Teseo ha pubblicato una nuova biografia di Giorgio Streller il regista nato cent'anni fa chiamava Trieste tenendosene a distanza Telespettatori di Tele4 buonasera ben ritrovati non solo le preoccupazioni per i possibili effetti collaterali soprattutto quelli legati alle trombosi gravi a portare molte persone a rifiutare il vaccino AstraZeneca c'è anche un altro problema emerso da alcune segnalazioni fatte questa mattina a Sveglia Trieste l'ostacolo è legato al lungo periodo tra le 10 e le 12 settimane che intercorre tra la prima e la seconda iniezione del vaccino a vettore virale oggi denominato Vax Zevria un tempo molto più lungo per risultare immunizzati rispetto a quello di 21 giorni previsto ad esempio da Pfizer in vista delle vacanze estive sono tante le persone a non voler aspettare così tanto e a sperare in un'estate più libera dal punto di vista dei viaggi allora io chiedo una cosa eravamo in tanti parlando col signore lì mi ha detto che 200 persone ci sono stenute di non fare quel vaccino allora io non sono un uvax premesso che non ho neanche dubbi sulle validità del vaccino però non intendo essere tenuto in ostaggio 3 mesi e 15 giorni prima di avere la seconda dose cioè prima di avere questo famoso passaporto vaccinale che si ha 15 giorni dopo la seconda dose è anche questo un ostacolo è un ostacolo e non solo ma è anche una grossa discriminazione nei confronti di uno che ha bisogno del passaporto vaccinale per muoversi le perplessità di molti nei confronti di AstraZeneca costituiscono uno degli elementi principali che stanno rallentando in questo periodo le adesioni alla campagna vaccinale nella nostra regione in particolare da parte degli over 60 un calo di prenotazioni che paradossalmente coincide con l'arrivo in Friuli Venezia Giulia di un buon numero di dosi e con l'apertura di nuovi centri per le inoculazioni tanto che la regione ha deciso di aprire le agende da lunedì 10 maggio anche a chi ha più di 55 anni e lo stesso presidente Fedriga ha intervenuto oggi sul tema dicendosi preoccupato per le forniture di AstraZeneca ferme nei frigoriferi non c'è dubbio che su AstraZeneca sia stata fatta una comunicazione confusa che ha spaventato i cittadini ha detto però noi dobbiamo usare la chiarezza della scienza è raccomandabile un prolungamento della somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna nella sesta settimana dalla prima dose lo prevede la circolare del Ministero della Salute con cui si trasmette il parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito all'estensione nell'intervallo tra le due dosi dei vaccini il CTS rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che per connotazioni anagrafiche o patologie concomitanti sono a elevato rischio di sviluppare forme di Covid-19 gravi o fatali sulla scorta di ciò il CTS raccomanda un prolungamento nella somministrazione della seconda dose visualizziamo ora assieme alla nostra grafica il dettaglio del bollettino delle Covid-19 con i casi, i guariti, i tamponi i nuovi casi sono 174, 146 da tampone molecolare 28 da tampone rapido tamponi in tutto 10.568 i decessi sono 3 le terapie intensive registrano 33 pazienti nulla cambia rispetto alla comunicazione di ieri cambia invece quella relativa ai ricoveri in altri reparti scendono di 17 unità sono 193 i pazienti ricoverati in area medica i nuovi guariti invece nelle ultime 24 ore sono 351 sono invece 7.838 le adesioni alla campagna vaccinale registrate oggi in Friuli Venezia Giulia secondo le rilevazioni aggiornate alle 17 di questo pomeriggio per la maggior parte prenotate tramite farmacia per la precisazione 4.682 effettuate nelle farmacie 1.415 tramite il call center regionale invece 608 da web app 5 nelle strutture private 1.128 agli sportelli delle aziende sanitarie e presso i reparti noi andiamo sulla cronaca invece torniamo sulla vicenda che ha visto protagonista la compagna triestina del DJ modenese morto la 38enne compagna del DJ morto in Francia in seguito a una coltellata è tornata in libertà le indagini proseguono gli inquirenti non escludono che il DJ si sia procurato da solo la ferita col coltello sentiamo Umberto Bosazzi è stata rimessa in libertà ma dovrà comunque restare a disposizione degli inquirenti la triestina 38enne compagna di Davide Masitti il DJ modenese di 49 anni morto a seguito di una coltellata al fianco martedì scorso nella sua abitazione di Saint-Michel de Castelnau in Francia dove l'artista viveva insieme alla donna e ai due figli piccoli come riportato dalla stampa locale d'Oltralpe nei giorni scorsi la donna era stata fermata con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale ma tra le piste battute dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di un gesto volontario compiuto dal musicista noto nel mondo della musica tecno in tutta Europa il corpo di DJ da Fricchio così Masitti si faceva chiamare nell'ambiente dovrebbe essere cremato venerdì mattina in Francia poi le ceneri faranno ritorno nella bassa modenese dove gli siedono i suoi parenti intanto sul sito lecci.com gli amici del DJ hanno raccolto oltre 6.000 euro per il suo funerale e viaggia attraverso gli sms la nuova truffa informatica la polizia postale in seguito alle segnalazioni di parecchi cittadini invita a non rispondere ad un messaggio che sui cellulari invita a sbloccare le pratiche per un pacco ingecenza vediamo se doveste ricevere un sms come questo evitate di cliccare sul contenuto ipertestuale la raccomandazione arriva dalla polizia postale in seguito ad una serie di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati il messaggio contiene un link che è la chiave d'accesso ai dati sensibili presenti nel cellulare il testo si riferisce ad un pacco ingiacenza e può capitare che inviti chi lo avesse ricevuto a tracciarne la spedizione a volte entro 48 ore altrimenti il pacco in questione verrebbe restituito al mittente c'è infatti quello strano link che però non presenta la certificazione SSL e di fatti inizia con HTTP e non con HTTPS il link rimanda ad una pagina che invita ad effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo e in questo modo gli hacker accedono alle informazioni personali degli utenti si può intanto bloccare il mittente che sembrerebbe provenire da una numerazione italiana che può variare ma non è detto che non possa arrivarne uno simile da un altro numero può accadere pure che aver cliccato sul link instauri una catena di Sant'Antonio per mezzo della quale l'utente a sua volta invii lo stesso sms ad altri numeri presenti nella sua rubrica se dunque inavvertitamente si fosse cliccato sul link truffaldino si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica del proprio cellulare di informare i propri contatti in rubrica affinché cestinino i messaggi provenienti da quell'utenza telefonica ma soprattutto di modificare tutte le password utilizzate nel cellulare social network, mail ma soprattutto quelle di home banking Ancora cronaca un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Trebiciano per cause ancora da accertare una Mercedes classe A è andata a sbattere contro il muro di una villa facendo poi testa coda una donna è rimasta ferita fortunatamente in modo non grave sul posto la polizia locale i vigili del fuoco il 118 il cozzo dell'autovettura contro il muro è stato piuttosto pesante tanto che è stato sentito da parecchi degli abitanti delle ville della zona fra l'altro schiantandosi l'automobile ha centrato la colonnina che fornisce l'elettricità alla villa rimasta così priva di energia elettrica Arvedi accorcia i tempi per il potenziamento del laminatoio della ferriera e ha già ordinato i macchinari per il subentro di PL Italy della superficie dell'area a caldo permangono in troppi burocratici sei mesi per l'arrivo dei macchinari necessari ordinati alla Danieli altri 12 per l'installazione e la messa in funzione Arvedi non aspetta le carte relative alle demolizioni delle palazzine del comprensorio e allo scambio di terreni che porterà HLA PLT Italy a rilevare la superficie dell'ex area a caldo e accelera i tempi per il potenziamento del laminatoio di Servola anche per avviare entro la fine del 2022 le nuove linee che assorbiranno la manodopera in cassa integrazione spesa per Arvedi 86 milioni su un piano industriale complessivo di 227 milioni 142 dei quali destinati a Servola l'investimento come d'accordo di programma prevede una linea di zincatura e una di verniciatura a completare l'attuale ciclo di produzione consentendone un aumento nonché l'ampliamento del mix prodotto a Trieste alcuni nodi burocratici non ancora sciolti lasciano aperti alcuni interrogativi in merito al subentro di PLT deve essere ancora firmato il decreto che ha chiuso la conferenza dei servizi sulla demolizione delle palazzine pure se in presenza del permesso per la demolizione la permuta dei terreni è in ritardo così come la questione del barrieramento a mare che da anni è fermo sulla scrivania del Ministero laddove il Ministero dell'Ambiente ha concesso 30 giorni agli enti pubblici per esprimersi sul programma delle demolizioni passo questo necessario perché PLT possa ottenere il via libera per la sicurezza dei terreni e la realizzazione dei nuovi piazzali che sorgeranno sull'area inquinata il movimento di Francesco Russo Punto Franco ha toccato oggi la ventesima piazza della sua campagna quella di Borgo San Sergio vediamo è uno dei tanti quartieri che stiamo visitando è la ventesima piazza in cui ci troviamo con i volontari di Punto Franco un rione vivo con tante potenzialità ma anche con tanti problemi ancora irrisolti oggi la campagna d'ascolto dei cittadini di Punto Franco il movimento di Francesco Russo è approdato a Borgo San Sergio in un giorno di mercato rionale numerose le segnalazioni raccolte in mattinata riguardanti gli argomenti più disparati dai trasporti allo stato delle strade e dei marciapiedi fino alla raccolta dei rifiuti molte le richieste relative alla vita non sempre facile nei grandi complessi Ater del rione ma sono emerse non solo lamentele ma anche proposte di miglioramento della qualità abitativa degli alloggi le persone ormai si sono abituate ad avere Punto Franco in piazza qui a Borgo ed è bello sentire le cose di cui sono contenti e le difficoltà ho appena finito con una signora che mi diceva che ci sono mucchi di spazzatura da raccogliere altre persone ci invitavano a fare pressione sull'Ater perché si possano sfruttare i soldi del 110% per fare di nuovo i serramenti e i cappotti esterni soddisfatto il candidato Francesco Russo per l'andamento della campagna nei quartieri l'idea è proprio di ripartire dalle persone lavoriamo con le associazioni di quartiere noi possiamo uscire Trieste può uscire dal covid con un progetto di nuovo comune uscendone insieme partecipando di più e con una politica che finalmente impara ad ascoltare quello che chiedono i cittadini Trieste non è solamente maglia nera della raccolta differenziata ma non ha neppure una visione del futuro neanche di quello prossimo è questo il commento di Alessandra Richetti candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Trieste sui dati forniti recentemente da Arpa sulla gestione dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha confermato nel suo ultimo rapporto che anche quest'anno Trieste è ultima per i risultati della raccolta differenziata della nostra regione con solo il 44% di raccolta differenziata contro l'81% di Pordenone spiega Richetti in pratica giunge il 56% dei rifiuti raccolti vengono smaltiti nella termovalorizzazione che se da un lato produce energia dall'altro è fonte di inquinamento in linea generale è necessario rivedere tutto il regolamento comunale in materia di raccolta rifiuti ragiona ancora l'esponente del Movimento 5 Stelle il territorio triestino ha una morfologia variegata con insediamenti abitativi molto diversi per cui la raccolta dei rifiuti andrebbe modulata a seconda di queste condizioni tante sono le soluzioni possibili migliorative che osa in fine Richetti introdurre la raccolta porta a porta l'adozione di cassonetti accessibili con una card per i residenti e in un ultimo la creazione in ogni rione di centri di raccolta per quei rifiuti che non trovano collocazione nei cassonetti noi adesso ci fermeremo per una brevissima pausa pubblicitaria restate con noi nella seconda parte del telegiornale tutte le altre notizie ci rivediamo fra poco Riprendiamo parlando ancora di vaccinazioni le prenotazioni vaccinali non decollano chi come medici operatori sanitari combatte veramente il covid deve essere ancora pagato e Fedriga continua a oscillare tra subito coprifuoco alle 23 e non mi straccio le vesti servono coerenza messaggi chiari campagne di sensibilizzazione ed evitare contraddizioni che confondano i cittadini lo afferma il segretario regionale del partito democratico Cristiano Schaurli in merito alle dichiarazioni del presidente della regione Massimiliano Fedriga proseguono invece i lavori sulla linea in via commerciale del tram di Oppicina il punto della situazione dal cantiere fatto proprio questa mattina assieme all'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi prossima tappa tra l'altro la stesa dei nuovi binari proprio in quel cantiere e poi toccherà invece a quello di Oppicina vediamo questo appalto che alle mie spalle è di un milione di euro di quadro economico è un appalto importante perché va a sistemare quei punti critici che poi hanno stato rilevati a seguito di quei sopralluoghi nel 2016 dopo le chiusure e le riaperture a singhiozzo di questi ultimi anni ora si può dire che stanno proseguendo con continuità i lavori per il tram di Oppicina oggi abbiamo assistito alla posa della nuova massicciata ovvero i ciottoli che sono stati stesi sulla linea successivamente verranno tolti i vecchi binari per posizionare e fissare quelli nuovi è stato un cantiere che ha avuto un avvio molto complicato e per questo è stato fatto un grosso lavoro dei nostri uffici ma siamo nel vivo del cantiere sono già state posizionate le traversine e quindi il passaggio successivo sarà la collocazione dei nuovi binari dopo aver sistemato già diverse fermate della linea si guarda all'orizzonte per il prossimo cantiere stessa modalità operativa verrà poi fatta successivamente a Oppicina abbiamo già lavorato su quattro fermate mettendole quindi a norma come da prescrizioni Ustif e abbiamo in questi giorni appaltato un ulteriore lotto di manutenzione quindi del tram di 600.000 euro per la sistemazione di scarpate di cordoli e quindi un ulteriore tassello in più l'assessore Lodi infine si è tolto un sassolino dalla scarpa in merito alle difficoltà rimarcate in questi anni e non senza scatenare continue polemiche per ripartire con i lavori del tram le procedure sono complesse in un paese come il nostro specialmente se una tratta così particolare soggetta molto normative è tutto molto complicato però siamo in un momento importante non vi spiego neanche tutta la serie di analisi anche sottofondo che per legge bisogna fare ma tutta una serie di attività necessarie poi per arrivare a vedere un cantiero operativo appuntamento sempre questa mattina anche a Udine per fare il punto della situazione il rendiconto di bilancio 2020 di Despar che tra l'altro ha annunciato come ci sarà sicuramente un'altra inaugurazione nei prossimi mesi di un nuovo punto vendita a Trieste vediamo il servizio ormai la famiglia Despar in Friuli e Mezza Giulia conta quasi 2000 colleghi 41 nuovi assunti quest'anno ma questo ci permette anche di far lavorare le aziende del territorio perché oltre 11 milioni di investimenti sono dati da ristrutturazione e nuove aperture un 2020 in piena crescita oltre 96 milioni di euro destinati investimenti 281 collaboratori in più tra tutti i punti vendita sono stati presentati i risultati del 2020 del marchio Despar in conferenza telematica un bilancio in positivo su tutti i fronti dalle vendite al fatturato i risultati di Aspiag Service si specchiano negli investimenti per lo sviluppo del territorio ma anche nelle continue nuove assunzioni di collaboratori inaugurando sempre più punti vendita per il triennio 2021-2023 sono previsti 390 milioni di euro di investimenti Despar ha chiuso un 2020 assolutamente positivo la crescita è importante totale azienda abbiamo sfiorato i 2 miliardi e mezzo di fatturato con un più 4,7% migliorando così le quote di mercato in questa regione abbiamo fatturato 623 milioni di euro e abbiamo aperto anche dei nuovi punti vendita e proprio nel capoluogo Giuliano ci sarà una nuova inaugurazione di un punto vendita sicuramente un'inaugurazione importante a Trieste quest'anno ci sarà e parliamo dell'Eurospar di Bandalena che ormai tutti i triestini conoscono e aspettano con entusiasmo rimango convinto che ci debba essere un governo pubblico delle prestazioni garantite alle persone anziane partendo dalle cure a domicilio che devono essere sempre più potenziate fino a culminare nell'attività delle residenze assistite a ciò si associa la necessità di definire alcuni parametri necessari che consentono all'utente di poter valutare il servizio che gli viene fornito questo l'ha detto il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso dell'incontro telematico svoltosi oggi con i rappresentanti sindacali di CGL Cisle Will pensionati al centro dell'attenzione la definizione dell'atto riguardanti i servizi residenziali per anziani non autosufficienti offerti ai cittadini della regione una tartaruga caretta caretta stamane affiorata nel golfo di Trieste a Barcola con la testa mozzata l'esemplare è stato recuperato dalla capitaneria di Porto una tartaruga caretta caretta a pochi metri dagli scogli della riviera di Barcola sarà viva e su questa domanda che si concentra l'attenzione delle decine di passanti che si fermano scattano una foto col cellulare e si sincerano delle condizioni dell'animale in realtà la tartaruga è morta e priva pure della testa e probabilmente arriva da molto distante è stato il vento di Libeccio a sospingerla sotto costa in questa giornata che poco ha di primaverile o estivo la tartaruga è stata poi presa in carico dalla capitaneria di Porto dopo che è stata allertata anche l'area marina protetta di Miramare per ragioni sanitarie è un esemplare di grosse dimensioni adulto che non è una presenza rara nei nostri mari si tratta infatti di un animale protetto gli animali sono stati protagonisti anche questo pomeriggio proprio a Trieste stavolta per fortuna si tratta di una vicenda risoltasi con il lieto fine i vigili del fuoco sono intervenuti come potete vedere dalle immagini in piazzale Rosmini per salvare il gatto della chiesa della Madonna del Mare che si era arrampicato troppo in alto su un albero situazione classica per certi aspetti il gatto fra l'altro alla fine è in qualche modo piuttosto anche coraggiosamente sceso da solo qui lo vediamo mentre tenta di divincolarsi dai rami mentre i vigili del fuoco liberavano appunto le fronde fitte che gli impedivano la discesa le operazioni sono state seguite anche dal parroco Don Valerio Muschi ma anche da un buon numero di persone di curiosi che erano lì intorno alcune incuriositte proprio perché affezionate all'animale vera e propria mascotte della parrocchia e qui in questa fase finale del video pubblicato vediamo come il gatto cerca in qualche modo di scendere l'albero e alla fine da solo autonomamente fa un balzo e scende e poi scappa e se ne va il rapporto uomo e natura passa anche attraverso considerazioni di questo genere quindi la soluzione del problema della moria delle api una questione esplosa e noi proprio oggi nello spazio in diretta dedicato al pretele giornale abbiamo sentito l'esperto che proprio di questo argomento ha parlato e chiarendo tutti i dubbi si vede da un grafite delle grotte dei pirenei nella parte spagnola cioè questo atteggiamento dell'uomo quasi quasi attraverso l'ape sale al trascendente basta chiedere ad un apicoltore di quelli innamorati della propria missione cosa sia il rapporto fra l'uomo e le api per capire per quale ragione la moria di api che si riscontra da qualche anno a questa parte costituisca un problema che va ben oltre le questioni sociali la faccenda ha radici pluridecennali come spiega Livio Dorigo e parte dalla metà degli anni 80 è arrivato una parassita delle api e noi non lo conoscevamo questo parassita veniva dall'estremo oriente e si è insediato qui e la malattia esotica è diventata una malattia endemica ce l'abbiamo ancora oggi non siamo riusciti a debellarla ove non fosse chiara la portata del problema in poche parole Dorigo spiega il lavoro delle api l'ape con un rapporto di sé che affascina riesce a impollinare ossia a fecondare il fiore il polline portato da fiore in fiore scende attraverso il pistillo e feconda l'ovulo della pianta che si trasformerà in seme verrà raccolto dal frutto e avremo una bella mela una bella ciliegia ma anche le fragole e avremo tantissimi prodotti che sono destinati all'alimentazione umana ma anche al mondo diciamo animale le soluzioni ci sarebbero spiega Dorigo ma devono essere prese in tempi rapidi e dovrebbero riguardare sì l'aspetto normativo economico ma estendersi anche ad una riconsiderazione del rapporto uomo-natura un genio che amava la sua città standone però lontano Giorgio Streller era nato a Trieste il 14 agosto del 1921 a pochi mesi dell'anniversario la nave di Teseo ha pubblicato la biografia del regista completa dal punto di vista artistico forse un po' reticente proprio per quanto concerne il rapporto con Trieste vediamo il comune sta preparando una serie di appuntamenti estivi per celebrare i cent'anni della nascita di Giorgio Streller che culmineranno il 14 agosto e che coinvolgeranno fra i molti anche il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia intanto è uscito un libro il ragazzo di Trieste scritto da Cristina Battocletti che già per la nave di Teseo indagò su Bobby Brazlen dedicato a colui che assieme a Lucchino Visconti di fatto creò la figura del regista nel nostro paese il volume è precisissimo nel raccontare la parabola artistica di Streller la nascita del piccolo teatro in una Milano che bramava di uscire dalla guerra e guidare la rinascita anche culturale del paese i successi travolgenti delle messe in scena strelleriane che hanno dimostrato come fosse e sia possibile rimettere in scena i classici Goldoni Shakespeare Chekhov attraverso nuovi allestimenti fermorestando il rispetto per i significati originali ed originali dei testi la scoperta fondamentale delle opere di Bertolt Brecht e la tensione verso un teatro decisamente civile e civico ma anche la caduta dettata sostanzialmente dalla politica in un paese che non perdona il successo e non riesce ad essere riconoscente c'è anche spazio per l'uomo i suoi amori improvvisi e duraturi e le sue debolezze e qui il libro si fa reticente la dipendenza dalla cocaina è accennata con velocità forse eccessiva e il rapporto con Trieste? Streller si trasferì a Milano quando aveva sette anni quindi non fece in tempo a tessere reti di amicizie solide anche se è noto durante le prove non disdegnava l'uso del dialetto triestino e si vuole che quel gusto tutto particolare che strelerebbe sempre per la luce gli derivasse proprio dai colori della nostra città che gli riusciva a rendere anche attraverso mezzi artigianali se non semplici intuizioni il libro però tace comunque su una relazione decisamente più complessa cui forse non furono estrane le radici del regista slovene e dalmate e che Roberto Canziani ebbe a definire sindrome di Streller che lo stesso Streller così riassumeva con te son via te vuol sempre tornare ma con te son qua non te vedi l'ora di scampar via stasera rialza il sipario il teatro ostabile del Friuli Venezia Giulia il primo di una fitta serie di appuntamenti è la produzione propria del teatro il muro trasparente delirio di un tennista sentimentale messo in scena e scritto assieme a Marco Ongaro dal direttore del ostabile Paolo Valerio un match solitario da mille palleggi contro un muro di plastica sistemato sul boccasceno un muro che divide e protegge che in tempi di pandemia evoca nuove emozioni e significati in scena lo stesso Valerio la colonna sonora è composta dai brani di musica leggera che in questo caso assumono la valenza particolarmente evocativa lo spettacolo sarà nella sala grande del Politeama anche domani quindi tornerà ma in sala Bartoli dal 12 al 16 maggio e dal 25 al 30 maggio è tutto per il telegiornale di stasera di Telequattro grazie per averci seguito buona serata si riparte domattina con sveglia a Trieste alle 7 l'assessore Michele Robianco e Marco Stabile in diretta esterna buona serata grazie a tutti